ciao ecco come potrebbe essere la giornata di domani io ho già preso le mie cinque sibille vediamo nello specifico allora abbiamo il viaggio la morte il domestico la riunione e la leggerezza allora domani potrebbe esserci un cambiamento che stavate aspettando potrebbe esserci anche di mezzo l'aiuto di un qualcuno per poter incontrare una persona con la quale potreste avere anche un flirt quindi domani una giornata con opportunità di incontri amorosi per oggi è tutto iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi video ciao a tutti da silvia buona serata